voi Cristiano Tomei. Buonasera Cristiano. Ciao a tutti, ciao Raffaella, ciao a tutti gli amici di Radio Pestum. Io sono contentissimo, anche perché io sappi che quella zona lì ci vengo molto spesso. Ah, e sì sì sì, lo so, lo so, tu sei anche spesse volte da Incibum a Ponte Cagnano che comunque è vicino a noi, ma a Pestum proprio ci sei stato? Sì, ci sono stato diverse volte, diverse volte. Poi vi svelo che mia moglie, che non è italiana, però ha studiato a Napoli. Quella zona lì la frequentavo moltissimo, quindi vedi, cioè è il destino che ci doveva unire, è questo, ci credo io in queste cose. Certamente, certamente, ma poi si rigiri in Campania e si torna sempre in un modo o per l'altro. Mi sembri Gennaro voi. Ma noi ce la vendiamo bene la nostra Campania, secondo me. Assomigliate a noi Toscani. Eh sì, sì, allora non siamo proprio campanellisti se mai come voi, siete un poco più, però le cose belle ce le abbiamo e le facciamo vedere al mille e mille. Assolutamente. Che siano. E per il cibo assolutamente uno dei posti migliori al mondo, in assoluto. Che cosa ti piace di più della Campania come cibo? Dai, voglio vedere adesso, dimmi. Guardi, è difficile. Lo sai perché è difficile? Perché la Campania, innanzitutto, bisogna dire una cosa importante sul cibo della Campania. Senz'altro, come ben sai e ben sanno i nostri amici che ci ascoltano e ci vedono, buona parte della cucina italiana, quella chiamata a torto tradizionale, quella territoriale, è diciamo di origine contadina, no? Di sussistenza. Le radici sono quelle lì. Allora, una delle poche eccezioni è proprio in Campania, in questo caso non Pestum e Salerno, ma Napoli, dove invece tanta cucina ha radici nobili, perché insomma, chi è passato di lì? Spagnoli e francesi hanno lasciato, le corte hanno lasciato un sacco di robe, anche di nomi di piatti che sono derivati da quelle lingue lì e sono rimasti. Quindi, vedi, la Campania è importante, poi importantissima per le materie prime, perché ci sono delle cose uniche al mondo, anche perché, come dico io, il San Marzano si fa a San Marzano, in quella zona lì, perché è inutile piantarlo in altre zone d'Italia o del mondo. Ma nel tuo orto invece? Nel tuo orto che pomodori? Nel tuo orto invece che pomodori ci sono? Eh, guarda, tra l'altro, cazzi, è un po' buono. Guarda, il mio orto è un ortino di un paio d'ettari, quindi insomma, è una roba grandina. E i ragazzi stanno mettendo giù, vabbè, noi ce l'abbiamo i pomodori nostri, eh? Sì. Abbiamo il canestrino lucchese, il grinzuto fiorentino, il pisarello, ce ne sono diversi di pomodori. E questo è un appello che faccio a tutti. Nel senso, chi è appassionato che si fa all'orto, di cercare di esaltare quelle che sono le microculture, no? Quelle cose che sono anche di zona, perché sono un patrimonio incredibile, non solo per l'orticoltura, ma di conseguenza per la cucina, che va difeso con le unghie. Non compriamo sempre i soliti pomodori, non voglio fare polemiche. Un pochino. E soprattutto i pomodori non li mettete mai in frigorifero, perché li uccidete. Ah no? E neanche. Dio, io lo faccio? Eh no, eh no. Adesso mi cancelli, adesso mi cancelli. Allora stacco subito il collegamento. No, perdonami, non lo farò più. Allora. Guarda, il pomodoro e il frigorifero sono veramente delle cose che non stanno insieme, perché il frigorifero, il pomodoro diventa acido proprio quando finisce in frigorifero. Non esiste un pomodoro acido in natura. Il pomodoro anche verde, è verde, non è acido. Quindi il pomodoro è sempre dolce e dolce, più o meno dolce a seconda delle caratteristiche del territorio nel quale viene coltivato e della tipologia di pomodoro. Ma il pomodoro proprio odia il freddo del frigorifero. E comunque tutti gli ortaggi odiano il frigorifero, usatelo nel meno possibile, comprate e cibateli. E non frullate mai il pomodoro. No. Quando frullate il pomodoro avete visto che cambia colore? Sì, infatti. E' arancio. Sì. Ecco. Come mai? In quel momento avete totalmente distrutto un pomodoro. Tutto il licopene del pomodoro se ne va a benedire, i semi si distruggono, danno una nota amara, spiacevole. Insomma, usiamo le mani, sono meravigliose. Con il passino, come si faceva una volta, dice, dobbiamo ritornare al passino? Ok, allora amici. Ma non è ritornare, non si torna mai indietro, si deve essere consapevoli, il che è diverso. Ma infatti Cristiano, tu sei un fautore della biosistonibilità. Io ho assistito anche dei tuoi corsi, che oltre alla simpatia sei così coinvolgente che non si riesce a non restare affascinati. E io ho assistito ad una tua pasta al burro. Che dico, Dio, sono venuta qua e che vedo adesso la pasta al burro. Ma poi è stata un'esperienza. Ce la racconti brevemente? Quale? Ah, quella che diventa un krafen. Brevissimo, brevissimo. No, ma vedi, allora, il cibo, a parte la pasta al burro che diventa un krafen, cioè il cibo è qualcosa che parla di noi. Quando un cuoco vi dice che inventa un piatto, vi racconta un'emerita bugia, per non dire parolacce. Vi prende in giro, perché noi cuochi abbiamo un'opportunità unica, che è quella di condividere la nostra vita. Quindi le esperienze di vita fanno un cuoco. Ecco, noi mettiamo lì dentro quelle che sono le esperienze di vita. E nella vita io ho conosciuto un sacco di persone, ho girato il mondo, quindi sono una persona fortunata e voglio condividere la mia fortuna con chi mi viene a trovare, no? Nei ristoranti, ma anche chi incontro quando faccio delle lezioni, delle lezioni, degli incontri. Anche lì sono scambi, cioè non è che io insegno. No, non ti metti in cattedra, questo sì, ma hai tanto da insegnare, non c'è niente. E la pasta è una di quelle materie prime che purtroppo probabilmente non conosciamo ancora del tutto, ed è molto affascinante. E ci possiamo anche giocare, rispettandola, perché per esempio una banale pasta al burro, come qualcuno può pensare, comunque la pasta al burro ha un sapore di pasta al burro. Certo. E riflettendoci, se ci pensi, la pasta al burro comunque si fa di più nei posti dove c'è un pochino di più freddo. Un po' più freddo, se è in montagna, il burro comunque si fa dove ci sono le montagne, generalmente. Vero, vero. Oppure nell'attitudine più al nord. E allora ho voluto omaggiarla semplicemente stracocendo la pasta, setacciandola. Questa pasta era cotta in metà acqua, in metà burro, quindi è stata setacciata, una parte ha lievitato e una parte è diventata un burro montato. Quello che ha lievitato l'abbiamo fritta, è diventato un bombolone, un krafen, come lo volete chiamare. Ripieno di questo burro montato. Però poi tu l'hai assaggiata, il sapore... È un'esperienza, è un'esperienza gustativa, sensoriale, si deve provare, non si può raccontare. Il sapore poi alla fine è pasta al burro. Ecco, perché vi dico che i cuochi non inventano nulla. Noi lavoriamo su quello che è il nostro bagaglio cognitivo, anche di memoria, di esperienza. Il cibo è prevalentemente... Vabbè, ci serve per sopravvivere, indubbiamente. Però poi è un gioco e col cibo ci giochiamo da quando si nasce a quando si muore. E poi un cibo funziona quando è evocativo. Cosa significa? Quando comunque ci ricorda un'esperienza, un momento, una sensazione. Il cibo a volte è anche piccante, amaro, proprio perché comunque, come la vita, è piccante, amara, è divertente, è dolce, è triste. C'è tutto, c'è tutto. In ultima battuta, Cristiano, e poi ti lascio perché so che c'è un aereo che ti aspetta. Perché sei considerato il cuoco più irriverente dei talk show? Boh, non lo so. Ma io, Raffaella, ti dico, credo che stiamo vivendo un periodo un po' particolare. Diciamo che a un certo punto della vita, e questo certo punto è iniziato un po' di anni fa, ho deciso di dire quello che penso. E lo faccio in maniera anche scherzosa, no? Perché comunque l'ironia, insomma, noi toscani e anche campani, certi campani, perché la Toscana non è tutta uguale, sai? Certo. È come la Campania, sono due regioni importanti, anche di territorio. Io sono via Reggino, insomma, il carnevale, l'ironia, noi ce l'abbiamo nel sangue, un po' come i napoletani, no? Sì, sì. I napoletani l'ironia ce l'hanno nel quotidiano, è bello per questo. Secondo me l'ironia è l'arma più forte per fare le vere rivoluzioni. La rivoluzione non significa per forza essere strani, essere diversi. Secondo me abbiamo un po' equivocato quello che è veramente il ruolo del cibo in questo paese. Cioè che non è solo la sensazione, il piatto figo, il cibo, la materia prima introvabile, ma è tutt'altro, è cultura. È cultura, certo. Cristiano, prima di salutarci, allora chi vuole gustare i tuoi piatti, ricordami, dove ti trovi? A Lucca? Però il tuo locale è una residenza molto particolare. Il mio locale è dentro Palazzo Fanner a Lucca, e Palazzo Fanner è un posto un po' particolare per il mondo del cinema, è dove è stato girato il Marchese del Grillo. E quindi, miei cari, se vi trovate in zona non si può esimersi da andare a trovare, ma chi si siede al tuo tavolo resta sazio o se ne esce digiuno, come un po' succede dagli chef stellati? Ma io, guarda, ho il problema contrario. Ah sì? La gente mi dice fermati. Ah, ok. Perché da me non esiste il menù alla carta, sono solo menù degustazione, e tra l'altro i menù degustazioni non sono dichiarati, sono a sorpresa. Sono a sorpresa. Quindi bisogna fidarsi di me, di me ragazzi. Poi uno mi dice che tolleranze, allergie, se è vegano, se è vegetariano, se mangia solo una cosa piuttosto che un'altra. Noi facciamo il menù e sono dei viaggi, noi li chiamiamo viaggi. Va bene. E da me si mangia. Ok. Tanto. Allora, allora Spadella Tavola e Radio Pestum, come avranno un po' di tempo ti verranno a trovare, perché io ho il mio capo che vuole mangiare, quindi te lo porto e lo devi saziare. E io vi aspetto, non so che aspettate a venire. Subito, in estate noi veniamo, Cristiano. Io ti ringrazio, ti ringrazio. Grazie a te. Ti lascio perché so che devi correre e sono eternamente grata e quando vuoi sei il nostro ospite supergradito qui a Radio Pestum e a Pestum. Cristiano, grazie. Un abbraccio, ciao. Grazie.